Sono partiti tre anni fa con un punto vendita e degustazione nel centro storico di Foggia, poi ne hanno aperti altri e adesso si apprestano ad aprirne anche uno a Rimini. Insomma il consorzio Start, ossia 52 produttori agroalimentari della Daunia, sta tentando il grande passo, uscire all'esterno. La sfida vera è quella dell'export. Tutto è cominciato un po' per caso, singoli soci che a Roma hanno incontrato acquirenti internazionali. Di lì sono nati i contatti, veri, e adesso si aspettano i contratti. I primi grandi ordinativi dovrebbero arrivare dalla Cina, soprattutto vino, pasta, taralli. Il consorzio ha presentato ai cinesi una tabella prezzi con forti ribassi. Intanto si aspetta che si concretizzino contatti avviati anche con acquirenti russi e tedeschi. In Germania ad esempio sono molto richiesti patè e conserve, in Russia vino rosso. Nel frattempo bisogna attrezzarsi, perciò al consorzio stanno cercando una piattaforma di stoccaggio, un grande magazzino per custodire le merci in procinto di partire. Probabilmente sarà un'area di 1500 metri quadrati, rislocata all'interno di questi capannoni, una ex tipografia nella zona industriale. Costerebbe pochissimo, almeno all'inizio, poco più di 1000 euro al mese, e occorrerebbero pochi ritocchi per riadattarla. Ma non si scartano altre ipotesi. Tutti gli investimenti sarebbero improprio, ricordano il consorzio, senza contributi pubblici. Stiamo aspettando l'ordinativo, la cosiddetta telefonata o le mail, però nel contempo ci siamo preparati per poter fare lo stoccaggio, perché noi avevamo questo problema, questo è uno dei nostri problemi fondamentali.